Secondo appuntamento stagionale dinanzi al proprio pubblico in campionato domani per il Gela, la squadra bianca-azzurra ospiterà l'Alba Alcamo, formazione che in classifica ha un punto in più rispetto ai Gelesi, fermi a quota 3. Una gara da vincere a tutti i costi per la truppa allenata dal tecnico Simone Pardo. Le due squadre, secondo gli esperti, hanno le carte in regola per puntare in alto. Al momento attuale la gradutoria sorride ai trepanesi, forti di un pareggio e di una vittoria. Sicuramente domani incontriamo una squadra importante, costruita per vincere anche loro. Sarà una gara dura, difficile, però noi ci siamo preparati durante la settimana. Sappiamo che giochiamo in casa, in questo momento ci troviamo meglio in casa, come dicono anche i fatti, anche se ancora presto. Però sicuramente faremo una grande partita. E il vostro obiettivo dichiarato è vincere? Sicuramente si entra in campo sempre per vincere, poi può succedere di tutto. Noi ci metteremo di tutto per farlo. Il Gela si presenterà all'appuntamento di domani, fischio di inizio alle 15.30, consapevole che in casa non bisogna assolutamente sbagliare un colpo. Il successo ottenuto mercoledì scorso in Coppa Italia a Favara, nell'ambito della gara d'andata degli ottavi, ha portato entusiasmo negli spoglietoi. Fino a quel momento, tra campionato e Coppa, i gelesi fuori dalle Muramiche avevano sempre perso due trasferte altrettante sconfitte. I fatti sono evidenti, però parliamo ancora di due partite. Una partita in Coppa, in cui venivamo da un 4-0 in casa, magari l'attenzione era un po' meno. A Folgo, Re di Castelvetrano, abbiamo perso la partita al 92esimo. Dobbiamo capire che comunque è una squadra che vuole vincere. Se non vince non deve perdere. Siamo stati un pochettino ingenui a perdere quella partita, però a Favara ci siamo sbloccati e quindi ci farà bene anche mentalmente questa cosa. E domani sarà importante l'apporto del pubblico definito il dodicesimo in campo? Sicuramente il Gela ha sempre avuto questa forza. Comunque il pubblico è una cosa importante per noi giocatori e comunque ci darà sicuramente una grossa mano. Come abbiamo sempre fatto, come abbiamo dimostrato in casa, dimostriamo che siamo una squadra forte. Però noi, come abbiamo fatto a Favara, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte anche fuori casa. Domenica proveremo a far sorridere i nostri tifosi.